Finalmente la Regione Puglia, dopo un'attesa infinita, dopo un parto lunghissimo e travagliato, ha partorito, ha prodotto le nomine dei presidenti e vicepresidenti delle varie commissioni permanenti regionali e abbiamo due tarantini, Enzo Di Gregorio, evidentemente sta facendo carriera politica, il quale diviene presidente della Commissione Affari Generali e Sport e, udite udite, Michele Mazzarano, presidente della Commissione Ambiente. Caro Enzo Di Gregorio, ti devo dire alcune cose, le devo dire a te, Enzo Di Gregorio, le devo dire a Lucio Lonocce, e voi in parecchie situazioni avete sollevato la questione morale, ma insomma uno può dire, ma voi sollevate la questione morale e poi avete parecchi casi o casini giudiziari, tra virgolette, riguardanti esponenti del Partito Democratico. Per alcuni, in alcuni casi ci sono sentenze definitive, in altre ovviamente vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Una nomina, certamente lecita, legittima, da un punto di vista amministrativo, ma scusate, è stato nominato presidente della Commissione Ambiente Michele Mazzarano. Nomina lecita, per carità, però certamente a mio avviso assai inopportuna, perché stiamo parlando di un soggetto che è stato, quindi, presidente di Commissione, ora Commissione Ambiente, in quota al Partito Democratico, che è stato condannato in via definitiva, definitiva significa primo, secondo e terzo grado, primo grado appello e cassazione, per corruzione elettorale. La famosa vicenda, balzata anche agli onori, ai tristi onori della cronaca di Striscia, la notizia, per uno scambio elettorale, scambio di voti, appunto, in cambio di un locale per la campagna elettorale, della promessa di un posto di lavoro per un figlio, insomma, una vicenda rispetto alla quale la Cassazione ha posto la parola definitiva e ha condannato, con pena sospesa, Michele Mazzarano a nove mesi di reclusione. La legge consente l'elezione di presidente della Commissione Ambiente a Mazzarano, però, 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 scusatemi, ma con tutto il rispetto, nulla di personale con Michele Mazzarano, ma penso che una maggiore sensibilità etica avrebbe certamente fatto ricadere la scelta su un'altra persona, non certo su una persona condannata, in via definitiva, per un reato comunque importante, significativo, proprio in ambito politico elettorale. Ma, Enzo Di Gregorio, tu che tanto ti scandalizzi del fatto che io non ho firmato la sfiducia al sindaco, beh, nel tuo partito ci sono persone che sono finite nell'occhio del ciclone dal punto di vista giudiziario, oltre che l'ora menzionato Michele Mazzarano. Penso al caso di Odati, già commissario del Partito Democratico a Taranto, arrestato qualche mese fa. Vicende giudiziarie che hanno coinvolto Santoro, Santoro che è stato un dirigente del Partito Democratico, parliamo ovviamente sia per Odati sia per Santoro di vicende che non sono certamente definitive, vale per loro certamente il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. E allora, cari Enzo Di Gregorio e caro Lucio Lonuce, invece di guardare la pagliuzza nell'occhio altrui, nella fattispecie nel mio caso, guardate piuttosto la trave politicamente parlando, che sta nel vostro occhio, o meglio, nell'occhio del Partito Democratico, con vari soggetti che calcano la scena politica, con indagini in corso, con condanne non definitive, con condanne addirittura definitive. Piuttosto che pensare a Luigi Abbate, che liberamente ha deciso di fermare questo incedere di Emiliano, che voleva impadronirsi politicamente di Taranto, pensate piuttosto, lo ripeto, agli indagati, ai condannati, definitivi e non, che stanno in casa vostra. Questa è la verità, cari cittadini. Luigi Abbate, grazie a Dio, non ha nessuna vicenda giudiziaria in corso e posso urlarlo, e posso urlare liberamente la mia libertà. Non conosco i gradini del Tribunale. Sappiatelo, cittadini, sappiatelo. Grazie a tutti.